Tre minuti di applausi a Meta non li leva nessuno per questa nuova fantastica idea di accorpare i profili personali alle pagine aziendali. C'è una cosa stupenda. Uno fa una pagina e poi se la ritrova accorpata non può modificarla praticamente se non dal computer. Complimenti a Meta, complimenti per tutto, per tutta la pessima gestione che sta portando avanti.